La cosa più semplice da fare dopo le denunce era scappare, andare via. Col mio lavoro mi hanno proposto in questi anni di tutto, andarmene in America, andare in giro per il mondo. E invece la vera vittoria è restare, restare in Sicilia, continuare a fare il mio lavoro, non chiedere il posto fisso allo Stato, non chiedere di lasciare tutto quello che avevo costruito in questi anni, ma mantenere e continuare a lottare per avere di nuovo la mia libertà, il mio lavoro, e continuare ad essere un uomo libero, ad essere un imprenditore libero, a fare quello che mi piace nella vita, cucinare, andare in televisione, gestire gli eventi, creare attività nuove nel campo della ristorazione, fare nuovi progetti. Questo è il vero messaggio.